Quando si vince non possono anche venire. Quando si vince è dei segni. Sì, quello poi è una cosa personale. È normale che sono contento per il gol, però l'importante è sempre la squadra e secondo me oggi abbiamo fatto un'ottima partita. Siamo partiti con la vinta, la determinazione è giusta e dobbiamo continuare su questa strada. Allora, sul gol e la palla, quando quella toccata Boccalone, era già entrata abbondantemente? Sì, io l'ho stoppato, poi l'ho tirato di sinistra, è stata deviata, è stata traversa, poi è entrata e poi non è neanche... Ero già in soltanto. Perché è veramente da tanto tempo che stavo cercando i gol e finalmente è un gol. Parlando del di là del gol è una grande prestazione. Tu hai sempre detto nel 4-4-2 io faccio magari di più la seconda punta e lui mi dice se hai fatto benissimo anche da tutta la tua parte. Sì, diciamo, questa volta il mister mi ha chiesto di decentrarmi un po' di più e giocare più vicino a Boccalone e lasciare lo spazio tra le linee a Pablo. Penso che siamo riusciti a dialogare alla grande e abbiamo tirato tanto, soprattutto il primo tempo e poi nel secondo tempo sono arrivati altri due gol per quello penso che abbiamo fatto veramente... Senti, diciamo qualcosa anche della corsa di un gol anno di là che vi accostate un cartellino giallo, però è... Il problema è che di solito partiamo tutti dalla partita sola e per quello magari non lo piantano molto. Poi magari potevo anche fare l'altro giro per avvicinare un po' la panchina, però in quel momento uno non ci pensa. C'è quello della parte di ora. Però è bello quello, per tutta la panchina è scattata, ma lui ha voluto proprio correre... No, ma io con il mio colano, anche se magari siamo... abbiamo una posizione simile in campo, un po' simile, però mi trovo molto bene con lui e quando fa bene lui sono contento io e quando faccio bene io faccio gol e contento lui per quello... Secondo me veramente siamo un ottimo gruppo e... E appunto sì. Comunque una torta a Gonzales la fai sempre, sì, come l'altra volta. Una torta di regalo, ti da sempre a un pallatino. Sì, adesso devo ancora... pensare di cosa regalare stavolta. No, ma pensavo anche di Bucolone e Vaco. 3-8 per il regalo. Ho fatto 3 assist e... Un regalo insieme. Un regalo comune. Fate, fate qualcosa insieme. Paolo è un grande giocatore, ci hanno fatto via incredibile e riesce sempre a mandarci in porta con una faccetta incredibile. Per quello anche oggi mi sono segnato e ci ha dato veramente una grossa mano. Posto.